Luce, gas, tassa sui rifiuti e servizio idrico. Del caro bollette se ne parla ormai da mesi, ma l'impatto arriva adesso ed è pesantissimo. Gli aggiornamenti tariffari stanno preoccupando famiglie e imprese e gli aumenti in molti casi sono veramente alle stelle. Se da una parte le associazioni di categoria e gli albergatori lanciano appelli al governo e alle amministrazioni locali, dall'altra si attendono misure ancora più efficaci. A livello nazionale sono stati stanziati 5,5 miliardi di euro nel primo trimestre di quest'anno, ma i beneficiari sono solo i nuclei familiari con massimo tre componenti eisee inferiori a 8.265 euro, famiglie con quattro o più membri eisee sotto i 20.000 euro, chi riceve il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza e i malati gravi che devono utilizzare delle apparecchiature salvavita. In questo scenario, per aiutare tutti gli utenti, Selectra.net, il servizio che confronta le tariffe e le offerte in modo gratuito, ha stilato un vademecum rispondendo ai dubbi più comuni delencando sei cose da sapere per difendersi dai rincari. Prima di tutto, il cambio fornitore per il mercato libero è gratuito, non ci sono dunque penali da pagare nel passaggio, mentre nel caso si volesse tornare indietro dal libero al tutelato, verrà addebitato un bollo da 16 euro. Nel passaggio non ci sono interruzioni delle forniture, inoltre non occorre sostituire il contatore e cambiare gestore per passare ad una tariffa più conveniente e più semplice di quanto si possa pensare. Il nuovo contratto di energia elettrica o gas può essere infatti sottoscritto in pochi minuti, sia telefonicamente che online, oltre che in un punto vendita. Una volta sottoscritto il contratto di fornitura, il nuovo gestore scelto si occuperà di comunicare al distributore locale e al vecchio fornitore il passaggio. In questo momento storico, il consiglio di Selectra è quello di valutare un'offerta sul mercato libero a prezzo bloccato per i prossimi 12 mesi, controllando nell'arco dell'anno che risulti sempre conveniente rispetto al mercato. C'è da tenere in considerazione che le offerte che prevedono la domiciliazione bancaria e la bolletta web risultano solitamente più convenienti rispetto a quelle col bollettino postale, indicazioni da non sottovalutare visto che a molti la stangata è già arrivata.